L'ho conosciuto che tornava dai Vangeli, il capitano della mia fede, sulla pietra il tufo balbettava di calura, mentre la cisterna tracimava di coscienze incontumacia. La sua voce falciava le coscienze indolenti, gli occhi caddero sulle mani come ostie, a pezzi. Aveva addestrata tutta la sua infanzia alle visioni. L'equazione della sua morte non era immaginaria, ma la fine cortese l'aspettava sulla soglia, dove le pagine del suo libro sbattevano come ali. Mi hai reso complice di una poesia che io non conosco, ma ti sei donato uno strumento di risurrezione. Grazie a tutti.